Oggi Michelle, dopo essere rimasta a piedi, si è improvvisata meccanico di bicicletta. Che ne dite sarà riuscita a far ripartire la bici? Non ho capito cosa è successo esattamente. No, bene, hai fatto una cosa? Cioè, nel senso, si è totalmente... Vieni a vedere, vieni a vedere. E ma se lascia un'altra bici? Guarda, guarda qua. Aspetta. Vedi qua come si è incastrata? Qua? E adesso come possiamo fare? Cioè, scusa. Attenta perché ti, veramente, ti mozzi le dita. Dobbiamo fermare qualcuno, secondo me. Ti fai male, Mish, guarda. Aspetta. Giorgio, ci inviti ancora? Eh, sta mettendo la bici dentro, mentre al telefono sta facendo una telefonata importantissima. Buonissima. Buonissima. I miei compagni di viaggio si sono accomodati in macchina. Pietro, Giorgio. Tu non ci stai. La signora. Resti qua. Le rose, l'acqua, il polvo. No, siamo a posto. Guarda il maule. Io, non ci stai direi qui. E buon lunedì. Questo lunedì si parte con tante coccole a questo piccolo allevriero grigio meraviglioso che è venuto a trovare la mamma. Bene. Allora, prima di allenarmi, io mi prendo quattro pipette di Shaper Booty con... Cosa ho fatto? Due capsule del mio integratore lipolitico che insieme, in sinergia, vanno ad agire per togliere buccia d'arancia e smaltire tantissimo una riprensione etica. Perché il nostro drenante va ad agire sul microcircolo. E questo meraviglioso integratore, che io lascio al fiatone, ancora prima di allenarmi, perché stavo correndo per la casa. Il nostro integratore, in sinergia con lui, stavo dicendo che il nostro integratore lipolitico, che ha dentro la bromelina, l'estratto del cacao, la centella, vanno proprio a smaltire gli inestetismi della buccia d'arancia e della cellulite. Ed è veramente un portento, loro due insieme. Li prendete la mattina, farete un sacco di pipì e poi dopo l'allenamento, dopo la doccia, io mi metterò questo siero sulle ciappettine. Adesso vado ad allenarmi e ci vediamo dopo. Ciao! 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 Ciao!